La pace dei santi sia con voi. Il 25 luglio la Chiesa celebra la memoria di San Giacomo detto il maggiore, per distinguerlo dall'omonimo apostolo detto il minore. San Giacomo, figlio di Zebedeo e Maria Salome e fratello dell'apostolo San Giovanni Evangelista, nacque a Bezzaida. Fu presente ai principali miracoli del Signore, alla trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor e al Gezzemani alla vigilia della passione morte. Pronto e impetuoso di carattere, come il fratello con lui viene soprannominato da Gesù Boanerges, che significa figli del tuono. Primo tra i santi apostoli ad essere martirizzato, fu decapitato a Gerusalemme verso l'anno 43-44 per ordine di Erodea Grippa. Il sepolcro, contenente le sue spoglie, traslate da Gerusalemme dopo il martirio, sarebbe stato scoperto al tempo di Carlo Magno nell'814. La tomba divenne meta di grandi pellegrinaggi medievali, tanto che il luogo prese il nome di Santiago, da Santi Iacobi, in spagnolo Sant Iago. E nel 1075 fu iniziata la costruzione della grandiosa basilica a lui dedicata. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giacomo ed auguri a quanti il 25 luglio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.